Il teologo sia in ginocchio. Dalle parole di Papa Benedetto XVI, riprese poi dal successore Papa Francesco, l'inizio del nuovo anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Una realtà unica, formata da due sezioni, la Sant'Ommaso d'Aquino e la San Luigi, quest'ultima gestita dalla Compagnia di Gesù e a cui quest'anno sono toccati gli onori di casa con l'apertura nell'istituto di Cappella Cangiani. Ad iniziare la giornata il padre gesuita Domenico Marafioti, preside della facoltà che ha accolto il Gran Cancelliere, l'Arcivescovo Metropolita di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe e il Cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica al quale è stata affidata la prolusione accademica. Presenti numerosi rappresentanti degli istituti didattici e religiosi dell'Italia meridionale. Il Cardinale Sepe ha invece tenuto una breve omelia sulla lettera di San Paolo e Colossesi, ricordando agli studenti il servizio verso Dio e il prossimo quale valore primario. Il preside Marafioti ha ricordato l'importanza storica della Pontificia Facoltà nel contesto di Napoli, città di cultura e tra le capitali del Mediterraneo, auspicando un ulteriore incremento delle attività.